Ci troviamo nel Salone Monumentale di Palazzo Gotico, sta per iniziare l'incontro aperto alla cittadinanza con Don Antonio Coluccia, che ringraziamo per questo tempo che ci dedica appena prima che si apre l'incontro, però stamattina c'è già stato l'incontro con gli studenti. Come è andata, quali i temi che aveva proprio a cuore di affrontare insieme a loro, come voleva coinvolgere all'interno di questa mattinata? Diciamo che con i ragazzi ho dato testimonianza di quello che io cerco di fare anche nelle periferie della capitale e anche in altre zone d'Italia, cercando di dare questo messaggio di vita nuova anche a loro, dicendo che non ho mai visto un drogato felice nella mia vita e soprattutto li ho invitati anche a conoscere la Costituzione. La Costituzione è importante conoscere perché c'è un'identità di un popolo e poi l'ho detto anche ai ragazzi che la prima istituzione è il popolo per la Costituzione e quindi, come dire, ho fatto un passaggio tra la Costituzione come Vangelo laico e anche come battezzati invece il Vangelo che umanizza, che dà coraggio, che ci libera da ogni sorta di male. Diciamo questo. Soprattutto ho dato questo messaggio di poter abitare ogni territorio. Ecco, la droga è l'Eucaristia di Satana. La droga non ha mai reso felice nessuno e soprattutto laddove la droga è organizzata nelle piazze di spaccio, che chiaramente laddove si sono creati dei voti istituzionali, le organizzazioni criminali ne hanno preso piede. E quindi, diciamo, in alcuni territori è un proprio e vero welfare. Poi subentrano anche l'occupazione delle case popolari, no? E quindi subentra il racket, no? E ho fatto comprendere loro come le organizzazioni criminali non soltanto si presentano come welfare e quindi ti offrono denaro, ti offrono casa, ti danno una macchina a noleggio, ti danno tutto, ma allo stesso tempo tu hai perso la libertà di essere uomo, di essere donna. Mi piaceva e ritengo proprio importante e significativo questo suo riferimento alla Costituzione e anche il termine, il verbo che ha utilizzato adesso, quello di abitare. Perché penso che ci sia in entrambi questi termini che lei ha utilizzato il richiamo ad essere da stimolo e anche da collaboratori di quella che è la nostra amministrazione. Cioè noi dobbiamo lavorare a fianco loro perché è proprio come già diceva lei prima, no? È dove molto spesso c'è un vuoto che allora arrivano altri. Non è importante riempire di cose buone e non lasciare dei vuoti. Diciamo che sono dei contenitori, no? In cui vanno anche dati dei valori, no? E bisogna dare forma a questi giovani. I giovani non sono il problema di questa società. Il vero problema di questa società sono gli adulti, secondo me, non loro. Quindi i ragazzi vanno motivati, ai ragazzi bisogna abitare la loro vita, bisogna ascoltare questi ragazzi e proprio dall'ascolto, dalla base, che poi accogliendo quelle che sono le loro esigenze, no? Perché il mondo giovanile ha il suo linguaggio, il suo alfabeto. Molto spesso gli adulti con i giovani si impongono, no? Cosa facciamo? Noi magari abbiamo fatto sempre lo sbaglio di creare prima le strutture senza avere le persone. Invece forse c'è bisogno di cominciare a abitare le persone, abitare i territori, cercando dal territorio qual è il significato e quale sarà il linguaggio di quel territorio, i bisogni di un territorio. E questo può avvenire soltanto attraverso l'ascolto. E quindi con loro io ho detto non lasciatevi prendere dalla patologia dell'indice, no? Che punta sempre il dito, perché lo Stato deve, perché, perché... Ma siate invece adottate un altro tipo di soluzione, col pollice. Io cosa posso fare? Io ho citato anche Martin Luther King che diceva può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla. Ecco, questo l'ho detto anche ai ragazzi. Quindi attenzione, tutti abbiamo un dovere civico, no? Come persone, come cittadini e come battezzati. Come cittadini dobbiamo abitare i nostri territori, quindi cittadinanza attiva e partecipazione sociale. Ho detto la città di Piacenza ha bisogno di voi. E voi avete un ruolo importantissimo in questa città. Quali sono, lei ne incontra tanti di giovani, secondo lei le paure e i desideri principali che hanno nel cuore? I giovani di oggi, come dire, hanno un po', a volte sono presi dallo stato della noia, no? Perché poi con la pandemia un po' li ha un po' disattivati, no? E quindi non è vero che la pandemia non ha portato nulla a questi ragazzi, no? Ha creato dei disagi, soprattutto nell'età adolescenziale, no? E quindi questi ragazzi soprattutto anche vanno motivati. E quindi come si possono motivare? Attraverso anche la cultura dello sport, uno sport di prossimità, di quartiere, no? Ecco, quindi cercando di coinvolgere loro, perché lo sport è stupefacente, ho detto io, no? Come la vita è stupefacente, proprio per dare, per creare un contrasto con le sostanze stupefacenti che invece alterano i comportamenti, alterano certe situazioni della loro vita e che non creano il benessere. E che l'uso sistematico anche della cannabis riduce la parte della cortesia cerebrale. E quindi ho detto, fate attenzione, che da qui a dieci anni avremo una società psichiatrica. Ed è vero. Perché la droga oggi è orientata verso la psichiatria. Quindi, come dire, e ho parlato non della bella vita a loro, ma ho parlato della vita bella, che è un'altra cosa, dove si organizza la speranza. Incominciando proprio dalle famiglie, incominciate dai vostri genitori. Voi venite qui a scuola, la scuola vi fa una proposta formativa a voi, no? E quindi questo è determinante, importante come cittadini. Però, attenzione, incominciate anche ad abitare le vostre famiglie. Vedete i sacrifici che fanno i vostri genitori. Questo vi può molto aiutare anche. Lei ha parlato di coinvolgimento. E lei da chi o da cosa si è sentito coinvolto quando ha iniziato sia il suo cammino, il suo percorso sacerdotale, sia il suo percorso sacerdotale in questa direzione di impegno attivo sociale, di denuncia e di presenza poi costante in questi territori, così di confine, se vogliamo? Io quando, per esempio, ho incominciato a frequentare le piazze di spaccio, no? Ad andare perché tanti ragazzi col tolto delle piazze di spaccio, perché ho un bene confiscato la mafia, la banda della Magliana, e sono un sacerdote vocazionista, no? Perché per me la vita è vocazione. Ogni vita è vocazione. Per me non esistono i ragazzi cattivi. Esistono i ragazzi, i giovani, che forse si sono macchiati di reati perché non hanno avuto un'alternativa, non hanno possibilità. e quando arrivi in alcuni quartieri e vedi che sono quartieri assoggettati, militarizzati, dove tu incontri vedette, no? che sono per terra e sui tetti, che si contrappongono, no? allo Stato perché hanno militarizzato quel territorio, no? E allora vedere quelle mamme, quei papà che scendono con i bambini dalle case popolari, no? E vedi che questi ragazzi vedono solo questi che urlano, che gridano, no? Allora ti fai una domanda e dici ma che cosa sta succedendo? Ma questi ragazzi, questi bambini, avranno il diritto di scelta? No. In quel territorio non avranno il diritto di scelta. E per creare le condizioni del diritto di scelta bisogna che lo Stato si riappropi dei territori. E quindi laddove, esempio, ho visto che ci sono alcune mafie tipo l'andrangheta calabrese presente come alcuni clan albanesi e anche romani nel territorio in cui opero, allora non è possibile vedere che a Torbella Monica che ci sono 14 clan, non è accettabile, no? Non è accettabile per la vita umana perché i ragazzi, insomma, la vita va difesa perché tutti devono avere le opportunità per crescere, tutti devono saper leggere e scrivere, no? E come dire, lo diceva lo stesso Don Milani, se sai sei, se non sai sarà di qualcun altro. E quindi per fare questo bisogna abitare quel territorio. Bisogna liberare i territori. Non si può accettare che avvengono dei sopplusi dove la dignità umana viene posta, come dire, al limite l'umanità di queste persone. Quando qualcuno ti limita la tua libertà, che non è l'autorità giudiziaria, ma che è uno spacciatore, è un capo piazza che ti bussa la finestra e ti dice chiudi la finestra perché tu non devi vedere, allora non è accettabile. Per questo prima le chiedevano anche del rapporto con la pubblica amministrazione, con le forze dell'ordine, perché per non rischiare, no? Quasi che l'intervento della Chiesa venga considerato un sostituto. Ci sono già loro che ci pensano? No, io ho cercato sempre di interagire con, come dire, quelle autorità locali, per esempio. Per esempio a San Basilio abbiamo fatto un bel lavoro, abbiamo aperto anche una palestra di pugilato sociale grazie anche al capo della polizia che ci ha concesso una sezione giovanile della polizia di Stato, insomma, con le fiamme oro, no? E quindi lì l'abbiamo fatto anche di concerto con l'allora sindaco Vergine Raggi e poi con Gualtieri, l'attuale sindaco di Roma, dove abbiamo liberato un locale che apparteneva a loro. E questo locale si è fatto una palestra di pugilato grazie anche a Sporto e Salute che ci ha aiutati all'opera Don Giustino che io presiedo, insomma, è possibile liberare questi territori. Ma in questi territori bisogna creare delle alternative. Allora, lo Stato vince non quando militarizza i territori. Lo Stato vince quando crea la cultura della bellezza. Noi dobbiamo portare cultura, bellezza. Questa è la chiave, è la password se noi vogliamo liberare questi territori. La droga è ovunque, compreso Piacenza. E quindi non bisogna mai abbassare la guardia. E bisogna fare prevenzione. Non va molto di moda la prevenzione, non se ne parla quasi mai. Allora è bello che tutte le agenzie educative sul territorio ognuno faccia la propria parte. E quando muore una persona di overdose abbiamo fallito tutti. Tutti. Rappresenta il fallimento di uno Stato. Di tutti coloro che non siamo stati capaci a, come dire, ad ascoltare quel grido di quella vita. Mi piace sempre sottolineare i termini, no? Perché i termini e i verbi che lei utilizza sono quelli che danno un'idea molto precisa dell'orientamento. Prendere parte, rete sociale, osare, rischiare, compromettersi. Sì, osare, sì. Ebbè, questo è il periodo in cui la Chiesa deve osare. E ossare. Ossare perché c'è bisogno di saper guardare oltre. Un po' la Chiesa, la Chiesa ha anche profezia. La Chiesa insegna, cioè madre e maestra, e deve sapere raccogliere quello che è il segno del tempo, no? E quindi credo che io, soprattutto ai ragazzi, dico sempre le parole di Papa Francesco, no? Cari giovani, dice voi non avete prezzo e non siete all'asta. Non lasciatevi comprare, sedurre e schiavizzare. Innamoratevi della libertà che Gesù vi offre. E non del capo piazza, non dello spacciatore, che vi ruba la speranza, che vi spoglia della dignità di essere uomini. Allora, come dire, poi penso alle tante mamme, ai tanti genitori che magari hanno un figlio con problemi di droga. A volte non sempre sono compresi, a volte non hanno gli strumenti, a volte si trovano anche da soli. E come dire, da parte mia come sacerdote, assicuro sempre la mia preghiera per loro. E sono vicino a queste persone. Quindi per cui bisogna osare rischiare. Beh, non c'è Vangelo senza rischio. Quindi lo diceva lo stesso Primo Mazzolari, una religione che non rischia diventa un cimitero. Quindi già annunciare il Vangelo è già un rischio. E poi il Vangelo è scomodo. Io non ho mai compreso perché non ho mai compreso perché alcuni volevano farmi capire che il Vangelo era come la cioccolata. No, non è come la cioccolata. Il Vangelo ha il suo gusto e ha la sua qualità, ma è impegnativo. Perché ti fa prendere il largo. E perché ti chiede il nome della condivisione, del rispetto dell'altro, del perdono dell'altro, della misericordia. Sai, il Vangelo, le abbiatitudini, insomma, ci insegnano qualcosa anche a noi. E a proposito di chiesa, direi che mai come Papa Francesco in questi anni ci ha proprio invitato, esortato ad uscire, ad andare nelle periferie, no? Perché quando lui dice chiesa in uscita, è proprio questa chiesa in uscita, in nome di quel principio pastorale che è l'incarnazione. È chiaro, è come dire, ma guardate, i parroci fanno un grandissimo lavoro sui territori, no? Ecco, quella prossimità del prete che conosce per nome le persone, che conosce anche le dinamiche familiari, nei piccoli, soprattutto i territori, dove questo viene favorito, no? E quindi questo diventa importante. Diventa importante perché, è come dire, noi dobbiamo servire la persona, perché la persona per me è il primo sacramento per eccellenza. E quindi Papa Francesco ha portato, come dire, una ventata nuova, no? Dove forse ci ha fatto gustare un pochettino in più, come dire, alcuni aspetti che magari venivano un po' messi da parte. E ricorda a tutti la notte del Giovedì Santo, no? Quando lui ci fa comprendere Brocca, Catino, Sugatoio. Quindi lui si mette a lavare. Quella lavanda dei piedi ha un bel significato per tutti noi battezzati, anche per me che sono prete, che il sacerdozio è servire gli altri, non è servirti degli altri. Don Antonio, noi siamo in conclusione e siamo, come dicevo all'inizio, nel Salone Monumentale del Gotico. Credo che sia importante, i luoghi parlano e hanno un significato, non sono mai neutri. Siamo nel luogo che è il cuore della città, per cui non è un luogo consacrato, è un luogo assolutamente laico e di incontro, dove lei ha incontrato gli studenti e dove adesso sta per incontrare la cittadinanza. Qual è l'invito che vorrebbe lasciare alle persone che questa sera sono qui ad ascoltare? Da dove ripartire? Ripartiamo da noi stessi, sulla nostra identità come battezzati e come cittadini. È l'amore per la città ed è l'amore per la città che cambierà anche un modo di vivere che dovrebbe essere diverso, meno indifferente, più inclusivo e più attento anche ai fragili e soprattutto ai bisognosi. Oggi è la festa anche della donna. E quindi questi luoghi ci devono anche educare all'amore, quello vero, soprattutto parlo per noi uomini, che usare la violenza con una donna è soprattutto contro natura perché siamo tutti nati da quel grembo di quella donna e poi dire che l'amore non è possessione, che l'amore è libera, l'amore va oltre e quindi non può essere incapsulato. E quindi mi sento di dire che la storia è l'intelligenza del nostro tempo e ogni tempo va vissuto sia come cittadini con una certa lungimiranza, come battezzati con una certa profezia. Un desiderio che ha per sé guardando avanti? Beh, io spero di poter aiutare tanti ragazzi a riscoprire la vita come un grande dono e soprattutto a farli vivere di cose semplici perché in questo tempo le persone e soprattutto alcuni ragazzi a volte vivono il mondo dell'evasione. Mi piacerebbe farli vivere invece la vita semplice, quella bella, quella fatta di pochi piccoli passi ma che dà soddisfazione e che soprattutto dona alle loro vite quella serenità e quella pace di cui i giovani di oggi hanno bisogno.